Questa Expo è, come dire, una sorta di servizio pubblico per aumentare le conoscenze in materia di tecnologie che salvano la nostra vita, che salvano gli ecosistemi, che salvano l'ambiente, che miticano il clima, che ci aiuteranno ad adattarci appunto a tutti gli impatti climatici che stiamo subendo. È questo l'obiettivo di Earth Technology Expo, che aprirà domani le porte alla fortezza da basso fino all'8 ottobre. Un evento gratuito, aperto a tutti, che servirà a fare ulteriore luce su clima e sull'emergenza idrica. Ci saranno convegni e dibattiti con al centro la tecnologia, quella a cui affidarsi per cercare di attutire e gestire i cambiamenti climatici. Sta piovendo sempre di più in sempre meno tempo e questo diventa un problema per trattenere quest'acqua, rimpinguare quelle che sono appunto le nostre falde, quindi il futuro sarà la gestione della risorsa idrica. È il problema essenziale, molto di più dell'aumento delle temperature. Il futuro è già adesso e la tecnologia può venire in aiuto ed è proprio su questo che le nuove generazioni dovrebbero indirizzare il loro interesse, nell'ottica di un lavoro che porti alla salvaguardia del pianeta. Parliamo della scienza, parliamo delle stelle, della meccanica quantistica, delle strumentazioni dello spazio. Perché? Perché questo sarà il loro futuro e dovranno lavorare in quelle imprese innovative, dovranno lavorare in questo campo, in particolare il mondo femminile, il mondo delle ragazze, che in Italia è arretrato su questo discorso delle tecnologie e della scienza. Noi vogliamo portare il Paese e vogliamo portare questi giovani a impegnarsi in questo campo.